Salve amici del Centrometro Italiano, una nuova perturbazione atlantica porterà piogge e neve fino a quote molto basse, specie al nord. Vediamo però nel dettaglio le previsioni per mercoledì 19 dicembre. Deboli fenomeni al mattino al nord-ovest con neve fino a 400 metri, molte nuvole altrove ma con tempo asciutto. Al pomeriggio fenomeni in estensione al nord-ovest con neve fino a quote molto basse o mista a pioggia anche sulle pianure, piasciutto sulle altre regioni ma con celli nuvolosi. In serata e nottata nevicate a quote molto basse sulle regioni settentrionali, anche in pianura su Piemonte ed Emilia Romagna. Piogge e acquazzoni in arrivo su regioni centrali tirreniche e Sardegna. Temperature minime stazionarie e un aumento al nord e il lieve calo al sud, massime in diminuzione special nord. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito o sulla nostra App Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.